Nel 1939 lo scrittore ungherese Friges Korinti pubblica un racconto intitolato Catene, nel quale per la prima volta si parla dei gradi di separazione. Korinti ipotizza che qualsiasi abitante della terra sia connesso con tutti gli altri da un massimo di sei relazioni personali di semplice conoscenza o di amicizia. Il grado di separazione è una condizione, anno, luogo di nascita, collaborazione professionale, condizione di vita e molte altre caratteristiche che collega uno all'altro gli abitanti di un paese o i brani musicali di una scaletta o i membri di una comunità cittadina. La teoria dei sei gradi di separazione è stata utilizzata nel mondo dei social network a dimostrazione che la diffusione delle informazioni rende il mondo più piccolo e più veloce. Ma proprio in un mondo più piccolo, connesso, fitto di relazioni abbiamo la necessità di riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni perché queste hanno effetti sempre più vicini nel tempo e sempre più lontane nella distanza. Per questo apriamo il cuore e la mente e prepariamoci ad un breve viaggio alla scoperta della ricchezza delle relazioni umane, ascoltando approfondimenti filosofici, musica e poesia. Dovunque vi condurrà il viaggio di questa sera, attraverso la rete di relazioni nel ricordo di Rosy, grazie all'amore di Valerio e Anna Lisa, il nostro viaggio può iniziare soltanto con un sogno d'amore. Grazie a tutti. 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 Abbiamo ascoltato Sogno d'amore di Litz. Il primo brano, quindi, di quella che sarà la nostra scaletta musicale, interpretata da tutti questi musicisti che sono alle nostre spalle e che ringraziamo moltissimo di essere con noi. Grazie a tutti. 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 e vi auguro buon viagli, vi auguro buon viaggio, vi auguro buon viaggio in questi 6 gradi, vi auguro buon viaggio, e buon viaggio in questi 6 gradi di separazione. Grazie a tutti. 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 che a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. perché a tutti. 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 la a tutti. 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 che. a tutti. 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 che. a tutti. che. tutti. a tutti. a tutti. uno sguardo sulla profondità del lavoro di cura e anche una possibilità per smettere di nutrire il corpo di dolore, come dice Eckhart Tolle, no? Noi dobbiamo smettere di pensare che viviamo solo nel dolore, ma essere insieme all'altro è l'unica, in questo modo, proprio nella compassione. Grazie moltissimo di questa lettura. Una sola osservazione, quello che ha detto la professoressa è esemplificato in una scultura di Ugoriva che si chiama Aiutami, è talmente vero quello che l'aiuto è reciproco, io aiuto te perché tu aiuti me, che in questa scultura di due figure si fa fatica a capire chi è chi aiuta l'uno o è l'altro che aiuta l'altro, quindi è un qualcosa di davvero importante e l'abbiamo già in qualche modo modestamente realizzato tramite Ugoriva. Grazie a tutti. 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 Quello che amo mi ha detto che ha bisogno di me, per questo ho cura di me stesso. Guardo dove cammino e temo che ogni goccia di pioggia mi possa uccidere. La relazione tra individui e gruppi si esprime con linguaggi, sguardi, ascolti diversi. Che ruolo ha nell'evoluzione umana questa ricca molteplicità di espressioni individuali? E come si traduce questa ricchezza di singolarità nella delicata pratica dell'aver cura dell'altro? Qualcosa è proprio dentro la domanda, anzi io direi che forse due cose per me le più importanti che si danno nella relazione, e che chiamo anche due poteri che noi abbiamo nelle relazioni con gli altri. Il primo che considero veramente un potere umano, mi verrebbe da dire con una parola un po' udace, quasi assoluto, è il potere dello sguardo. Io credo molto nel potere dello sguardo e che cosa intendo? Intendo quell'esperienza umana fondamentale attraverso la quale noi sperimentiamo l'incontro con lo sguardo dell'altro. Quando cioè abbiamo il potere, guardandoci negli occhi, di donarci il senso, il riconoscimento, il rispetto, l'accoglienza, esprimere la nostra disposizione, oppure attraverso solo la direzione del nostro sguardo, che qualcuno chiama l'intenzionalità dello sguardo, abbiamo esattamente la possibilità di far sentire l'altro meno di niente. Attraverso lo sguardo noi abbiamo la possibilità di far sentire l'altro accolto, farlo sentire meritevole del nostro rispetto, aiutarlo e accompagnarlo in quell'esperienza umana fondamentale che è la stima di sé. Quando una persona è ferita, quando una persona è sconfitta dalla vita, quando una persona è a terra, il nostro sguardo può contribuire a farlo sentire, a confermarlo in quell'esperienza della perdita di stima di sé, oppure abbiamo la possibilità di far uscire l'altro da quel cerchio che ha creato intorno a sé di sfiducia, di senso di sconfitta, di disvalore, di perdita di significato. Solo il nostro sguardo ha la possibilità di far sentire un'altra persona, una persona, oppure un relitto umano. E questo credo che sia qualcosa su cui noi non riflettiamo abbastanza, perché diamo poco significato ai nostri sguardi, perché forse non prestiamo significato agli sguardi che riceviamo, quando ci sentiamo feriti, quando ci sentiamo profondamente offesi da uno sguardo che riceviamo, oppure quando ci sentiamo semplicemente trasparenti, perché ci accorgiamo, quando lo sguardo dell'altro ci attraversa, come se noi non esistessimo. E quindi io credo che il potere dello sguardo è un potere enorme che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, nel modo in cui siamo accanto gli uni gli altri, nelle esperienze più forti, che sono quelle affettive, d'amore, ma anche nelle esperienze ordinarie, quando appunto passiamo accanto a qualcuno e semplicemente con il nostro sguardo possiamo fermarci, farlo sentire una persona di cui ci accorgiamo della sua presenza, oppure passiamo oltre. Questo credo che sia un aspetto essenziale, che noi possiamo mettere in pratica semplicemente vivendo, semplicemente non dobbiamo fare nulla di diverso. Qualcuno qualche volta si chiede ma io cosa posso fare? Ma credo che non ci venga chiesto niente di più che non appunto dare rilievo, attenzione al modo in cui direzioniamo il nostro sguardo, perché quello sguardo veramente ha il potere di ferire, ha il potere di sollevare oppure appunto lasciare a terra qualcuno. E quindi questa è una prima dimensione fondamentale della nostra esperienza relazionale e di tutte le esperienze di cura, perché chi ha vissuto una malattia sa che cosa significa sentirsi guardati con uno sguardo di mancanza di rispetto oppure con uno sguardo di cura. Nei momenti in cui non abbiamo il potere di essere autonomi, sappiamo che cosa significa essere attraversati da uno sguardo di disprezzo, diciamolo, oppure da uno sguardo di, diciamo così, insofferenza, quando l'altro nel prendersi cura di noi ci fa sentire che farebbe volentieri a fare qualsiasi altra cosa in quel momento. E quindi io credo che su questo nostro potere noi abbiamo molto da lavorare, sia nella direzione dell'intenzionalità, e cioè del nostro dirigere il nostro sguardo, sia nella direzione di accorgerci e magari dire all'altro quando non ci sentiamo rispettati, quando non ci sentiamo presi in carico, quando ci sentiamo offesi da uno sguardo che va oltre quello che dovrebbe essere. Ma c'è un'altra dimensione fondamentale che mi sta a cuore, che direi si accompagna a quella dello sguardo, che è l'ascolto. Perché anche la pratica dell'ascolto è una pratica che noi crediamo di fare ordinariamente, quotidianamente, anzi, più siamo dentro le relazioni di cura e più siamo convinti di fare bene questa esperienza. E invece è un'esperienza difficile, perché richiede pratica, richiede quella disposizione di cui dicevamo prima, perché ascoltare l'altro significa fondamentalmente non starlo a sentire e quindi in qualche modo catalogare quello che ci sta comunicando già dentro un registro a noi noto. Ascoltare l'altro significa fare vuoto dentro di noi per accogliere la sua parola, la sua esperienza e soprattutto la sua emozione. Perché spesso, quando noi ascoltiamo un'altra persona, ci focalizziamo sul contenuto di ciò che ci sta dicendo, come se fosse un problema da risolvere, una questione a cui dobbiamo dare una risposta. Spesso, o più spesso, le persone hanno bisogno di sentire accoglienza delle loro emozioni, hanno bisogno di sentirsi accolte in questa dimensione emotiva, in ciò che provano in quel momento, perché è quella dimensione che ha bisogno di essere accolta, ascoltata e valorizzata. E per fare questo noi abbiamo bisogno non di dare all'altro le nostre risposte o i nostri consigli, che spesso non sono neanche graditi o richiesti, ma abbiamo bisogno semplicemente di lasciargli uno spazio dentro di noi in cui non c'è il nostro pensiero, non c'è la nostra risposta, ma c'è soltanto la possibilità per l'altro anche di fare chiarezza attraverso di noi. E in quel momento noi diventiamo solo il suo specchio, perché a volte esattamente l'altro è di questo che ha bisogno. Ha bisogno di trovare qualcuno che possa riflettergli quello che sta vivendo, perché possiamo vivere momenti di non chiarezza, di confusione, di smarrimento, in cui dimentichiamo, cioè viviamo l'esperienza dell'oblio, magari delle cose più chiare, delle cose più note, e allora abbiamo bisogno che qualcuno ci ascolti, perché dobbiamo fare chiarezza, capire, e allora essere specchio per l'altro, accoglierlo, non dargli le nostre risposte, è una modalità per praticare la cura in ogni circostanza che credo possa essere rispettosa dell'altro e anche mettere in esercizio le nostre capacità. Noi ci siamo, come dire, avevamo un pochino parlato di come sarebbe andato questo scambio e che Donatella aveva susciti un sacco a me, cioè per me hai usato una parola che è il potere personale, che è una parola che viene spesso condannata, ciascuno di noi pensa di io non posso, invece noi abbiamo dei poteri che sono spesso, io mi permetto di pensare, di dire che riconoscere il nostro potere è un po' riconoscere il dono che l'esistenza per qualcuno Dio, per qualcun altro Buddha, o chi sia, l'esistenza ci ha dato. Ed è il nostro, qui sì, dovere di essere umani, riconoscere ed esercitare il nostro potere di accoglienza, di sguardo taumaturgico quasi, questa cosa dello sguardo e dell'ascolto è meravigliosa. Grazie. Padre nostro che sei nei cieli, scendi, siediti, prendici, e poi tienici, con le braccia possenti, sollevaci come solo i veri padri e ascoltaci come se tu fossi dentro, come se tu fossi. Esisti, resisti, insisti e poi insegna a fare uguale. Dacci il pane, dacci tempo, dacci un talento, oppure solo amore, consueto, consensuale, mansueto e congeniale, e che duri, che non spergiuri, che ci veda e che si veda, che ci creda. E liberaci dalla paura, dallo squillo del telefono di notte, dalle botte, dalle notti dei giorni, dal non essere capaci, dal sentirci meno belli, o inadatti, o soli, o inetti, dal non essere migliori, dal non sentirci tutti figli, tuoi figli, tutti, dal non sentire i battiti, i nostri e quelli degli altri, dalle porte chiuse, dal non aprire, liberaci dal male, liberaci. Applausi Grazie a tutti. 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 Capace per Ricard, e quindi per questo mi fa pensare alla resilienza, viene declinato sia nella forma attiva che nella forma passiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Enrico. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi abbiamo abbiamo e abbiamo cancellato l'alte, e a tutti. Grazie a tutti. abbiamo abbiamo vissuto tutti. tutti. nostri interessi. ci interessiamo noi, e tutti. e tutti. voglio dire, conoscenze, proprio con una poesia, sull'abbraccio, con questa lunghezza, sui gradi, e... non mio, non è un filosofo, e... il silenzio, e al di là del rumore, l'armonia, l'armonia, criptica o esoterica, e al di là del silenzio, stesso, grazie. e a tutti. 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 valerio. Siamo arrivati quasi alla fine, la professoressa Donatella Pagliacci. Siamo arrivati alla fine, abbiamo da dare due o tre indicazioni e poi io chiederò al maestro Mazzoni e alla maestra De Rosier di chiudere con un bis, con un piccolo bis. Grazie. Allora facciamo come di consueto e come di piacere anche ringraziamenti a quanti hanno collaborato a questa serata. In primis vi dico anche questo, che ognuno di voi all'ingresso ha ricevuto, oltre al programma di sala e a ventaglio, particolarmente utile questa sera, una busta che fa parte dell'associazione. Chi vuole e chi ha piacere può fare un contributo all'associazione, verranno poi raccolte all'uscita da mia figlia in una cassetta queste donazioni che se avete piacere potete fare. Sapete che l'associazione è un'associazione piccola, è un'associazione che non vive di grandi contributi statali, regionali o di altro genere. State certi che qualsiasi cosa facciamo e tutti gli euro che riusciremo ad avere verranno utilizzati assolutamente per queste serate, per momenti di resilienza, di incontri, come facciamo da tempo. Quindi di questo potete starne certi. Quindi vi ringrazio digitalmente quanti vorranno contribuire a questo. Alla fine di questa Carmes ci sarà un piccolo brindisera in fondo che l'associazione Grande Anima ha piacere di condividere, anche per dare senso alla relazione di cui abbiamo parlato. Quindi possiamo farlo anche concretamente in questo modo ed è davvero piacevole per tutti noi. Vorrei ringraziare il comune di Montegiorgio, nella persona del sindaco che non c'è, di Michela Vita, perché per la disponibilità che ci ha dato e che ci dà nella location che ci concede stasera con il teatro e quant'altro facciamo durante l'anno nelle nostre riunioni. Ringrazio il Rotary Club Altofermano Sibillini, stasera è presente con il Presidente Ferdinando Moretti Signore ed altri soci, anche perché è in essere una disponibilità ad una prossima collaborazione con qualcosa di importante e quindi ci fa particolarmente piacere. Ringrazio il Banco Marchigiano delle Marche, di Givitano Marche, perché non ci sono presenti, perché non avevano possibilità, collaborano con noi in alcune cose. Non mi posso esimere da ringraziare Laura Stopponi, poi la regia dell'evento, che vorrei un applauso. Ringrazio Monica Simoni, che è la nostra visual designer, non è presente perché si è concesso una piccola vacanza. Ringrazio Giacopetti Stefano, che non so se è arrivato e se c'è, però è il nostro grafico, serigrafico pubblicitario che è soccorso per ogni momento di difficoltà. Ringrazio Francesco Concetti di Fabbrica Creativa, sempre con noi, splendidamente presente per le registrazioni e vi invito fra qualche giorno, compatibilmente con i suoi impegni, pubblicheremo tutto l'evento registrato nei nostri canali social, su YouTube, su Facebook e quant'altro. Ringrazio Lorella Scarafoni per la partecipazione ai multitasking, se uscite vedrete anche dei cappelli fatti in raffia, creati da lei per l'associazione, quindi se avete qualche regalino o qualcuno da andare per il mare potete farlo. Ringrazio Sandro Belleggia per la Dopo Floreale, Mariano Fagiani sempre per fotografo presente nelle nostre carmesse, e ringrazio quanti a vario titolo possono non aver nominato ma che hanno collaborato chiaramente, effettivamente, a quanto abbiamo fatto. Mi associo e voglio ancora ringraziare anch'io Donatella Pagliacci perché la cui competenza e l'impatia davvero sono state un nutrimento per tutti noi. Grazie Donatella. Ringrazio anch'io Bianca Ramadori che ovviamente ha fatto il viaggio da Milano a qua, però ormai la nostra voce emotiva dell'associazione. Mi associo nel ringraziare tutti gli straordinari musicisti che ha elencato prima e che veramente sono il valore aggiunto di tutti noi e siamo davvero felici di avervi con noi. Ringrazio alla fine chi ci permette di stare qui e ancora Rosi che con il suo ricordo e sui insegnamenti ci permette di portare avanti i nostri progetti, le nostre possibilità. Ringrazio anche Annalisa che sarebbe mia figlia che il suo entusiasmo coinvolgente mi permette sempre di guardare avanti eccetera. Noi abbiamo fatto del nostro meglio per poter dare qualcosa di piacevole, di positivo e soprattutto per dare senso a quello che cerchiamo di fare ogni tanto e nelle nostre piccole possibilità. Io ho un piccolo presente da dare a Donatella che facciamo sempre a tutte le persone e i docenti che collaborano con noi. È una cartella che adesso ti consegnerà mia figlia. È una cartella che abbiamo editato nel primo anno, franto cinque anni fa, quando abbiamo presentato il libro che si chiama Sette parole per una grande anima. Sono sette litografie originali con sette parole che Laura Stopponi ha dedicato a Rosi, sono anima, coraggio, futuro, gratitudine, bellezza, onestà e amore. E sono all'interno di questo, ci sono le litografie originali insieme alla spiegazione del nostro progetto. Quindi non è un impegno importante ma è molto prezioso per noi, quindi te lo diamo con grandissimo affetto di questa cosa. Ringraziandoti davvero per essere qua. Non facciamo altro che ascoltare a destra i maestri Mazzoni e De Rossier che ci allietano con l'ultimo brano e poi vi invito gentilmente a prendere parte al nostro piccolo brindisi perché davvero vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore. Grazie infinite a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.